A Palazzo San Giacomo il sindaco Manfredi ha ricevuto la sottosegretaria all'economia e alle finanze Sandra Savino per un confronto sulle politiche di bilancio degli enti locali e per fare il punto sul patto per Napoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.